Inizia questa mattina al Grassi questa meravigliosa operazione. Cosa facciamo? Vacciniamo i primi 50 operatori, i primi 50 vaccinatori. Domani arriveranno 45.000 dosi per il seguito delle operazioni, quindi la vaccinazione del restante personale sanitario e poi del personale e ospiti dell'RSA e delle strutture sociosanitarie. E' importante per quale motivo? Perché questo dà ancora più fiducia a quel concetto che molto presto potremmo dire basta, potremmo dire siamo fuori da questa situazione, da questa pandemia e ritornare a riappropriarci della nostra vita. Quindi affidiamoci con sicurezza ai vaccini e non al vaccino perché sono più vaccini entro poco tempo a disposizione che saranno a disposizione per dire ce la faremo. Quindi io esorto la vaccinazione e molto presto, appena potrò, sarò il primo a vaccinarci.